Ultimo appuntamento con l'informazione sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera da Andrea Biagioni di Firenze Smart. Traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Sulla 1 panoramica si ricorda che a causa di lavori fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sul raccordo siano a Firenze invece restringimenti di carreggiata per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Sulla regionale 429 variante di Certaldo, tratto chiuso dal chilometro 12 al chilometro 17, 650 fino al 15 gennaio. Cantieri di Firenze domani 13 gennaio per posizionamento di un'auto grubbia sul ferino rimarrà chiusa nel tratto fra via Palestro e via Garibaldi. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!